un saluto dalla redazione sportiva calcio e sci gli argomenti che tratteremo oggi in apertura il calcio con il Pescara che prosegue con regolarità gli allenamenti in vista della prossima partita di sabato quando all'Adriatico arriverà il Sassuolo al gruppo dopo le buone prestazioni con la maglia dell'Under 21 si sono aggregati gli Azzurrini, Insigne, Capuano e Verratti che alla prima uscita nella nazionale di Ferrara ha fatto un figurone. Buone notizie per Zeman arrivano da Balzano, il terzino infatti ha smaltito la botta subita nell'ultima partita ed ha lavorato con il resto del gruppo. assenti invece Brosco e Caprari. Il tecnico del Pescara Zdenek Zeman intanto è stato ospite del nono incontro organizzato dalla FIGC Abruzzo per quanto concerne il fair play nel mondo dilettantistico in particolare per le squadre di eccellenza e promozione. L'incontro tenutosi presso l'hotel Serena Majestic di Montesilvano è stato organizzato dal presidente della FIGC Abruzzo Daniele Ortolano e oltre a riscuotere successo in termini di presenze la manifestazione è stata anche un momento di confronto su tematiche fondamentali nel mondo del calcio. Zeman ha parlato delle proprie esperienze ed ha invitato tutti i dirigenti e calciatori nell'osservare sempre il rispetto delle regole e degli avversari. Si allena con intensità anche il sassuolo di Pea reduce da due pareggi consecutivi casalinghi contro Varese ed Ascoli. Dal quartiere generale di Camarta però non arrivano buone notizie per i neroverdi infatti si sono fermati Terranova e Troiano il primo per una lesione di primo grado al soleo destro Troiano invece per una lesione di secondo grado al retto femorale destro entrambi ovviamente rischiano di saltare la trasferta di Pescara ci sarà sicuramente a protezione dei pali dalle difese a meno abbattuta del campionato di Bwin con appena 18 reti subite le stesse del Torino il portiere del sassuolo Alberto Pomini. Si va a giocare una partita contro un avversario che avrà voglia di riscattarsi anche perché anche loro non vengono da un pareggio nella sconfitta casalinga quindi sarà molto dura però noi siamo consapevoli comunque della nostra forza della nostra compattezza e dobbiamo continuare sulla strada che stiamo percorrendo. L'importante è importante perché comunque si affrontano due squadre che sono al vertice tra i primi posti della classifica due squadre che stanno bene decisiva un po' presto perché comunque poi ne mancheranno 13 a noi e 14 a loro quindi la strada è ancora molto lunga. Quest'anno le statistiche sta dimostrando che le squadre quando giocano fuori ottengono maggiori risultati rispetto agli altri anni. Noi probabilmente essendo una squadra brava a chiudersi con tutti gli undicesimi, con tutti gli undici giocatori e a ripartire esatto. Non si può tirar fuori uno perché sono tutti e tre molto forti e tutti e tre hanno segnato tanto. Due giocatori immobile e insigne sono due giocatori che sicuramente faranno parlare di sé in futuro. Sansovini penso che sia un giocatore affermato quindi non ce n'è uno in particolare bisogna stare attento a tutto il reparto offensivo che non vuol dire solo i tre attaccanti ma tutta la squadra perché il pescare effettivamente attacca molto bene. Adesso spazio allo sci con i mondiali juniores di Roccaraso. Ieri grande cerimonia di apertura al palazzetto del centro montano abruzzese. C'è stata una folla immensa ben al di là di ogni più rosea aspettativa. La simpatia di Alberto Tomba è un grande show con Barbara Fusarpoli hanno conquistato tutti i presenti. Oggi al via le gare si inizia con lo slalom femminile tutto da seguire. E questa era anche l'ultima notizia per questa edizione della notizia sport. Appuntamento al prossimo spazio con l'informazione dedicata allo sport. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci. Grazie per la visione.